Secondo me in tempi normali, in situazioni normali, senza essere obbligati a dover fare per forza, ecco Totti e Montella intanto amici contro, che si salutano, Totti non poteva mancare naturalmente da dirigente a seguito della squadra per questa classica della Serie A, questo appuntamento tra Milan e Roma, sono tante le persone che salutano Francesco Totti. A proposito di Roma, andiamo dall'altra parte, ovviamente saluto anche con Leonardo Boucci.